Un campionato da protagonista culminato con la promozione in Serie A. A Palazzo San Giacomo è stato celebrato l'anno sportivo del Napoli calcio femminile. L'assessore allo sport Emanuela Ferrante, assieme al presidente della commissione Sport, Gennaro Esposito, ha voluto premiare le campionesse in rosa del pallone, con la targa e le medaglie del comune, facendo una promessa al sodalizio partenopeo, quello di far giocare in città la prossima stagione in Serie A. Fino a pochi giorni fa, infatti, il Napoli femminile doveva decidere settimana per settimana dove disputare le sue partite. Stiamo ragionando col calcio femminile dove poterle fare giocare, magari a Napoli, in uno dei nostri campi sportivi, quindi sicuramente siamo vicini a tutte queste realtà perché per noi lo sport non è solo agonismo, non è soltanto campioni e vittorie di medaglie o di trofei, ma anche e soprattutto volere contagiare i nostri ragazzi. Una stagione agonistica entusiasmante, una lunga cavalcata che ha visto protagonisti a tantissime ragazze del vivaio azzurro, nate e cresciute con addosso la maglia del Napoli. Soddisfazione nelle parole del presidente del Napoli femminile Alessandro Maiello. Siamo contentissimi, siamo tornati in Serie A, abbiamo avuto anche una sorta di gemellaggio nell'ultima partita perché anche noi siamo andati a vincere a Udine, vicino Udine a Tavagnacco, quindi si è ripetuta un po' la storia. Siamo felicissimi di aver riportato questa squadra in Serie A perché è un gruppo che era nato tutto quanto da zero dopo la retrocessione e ci speravamo dall'inizio, ci abbiamo creduto, il gruppo ce l'ha fatta e quindi eccoci qua.